Su questo canale abbiamo già visto diverse volte alcuni prodotti della Xiaomi che davvero mi hanno entusiasmato, mi sono piaciuti, tanto da volerli portare sul canale per farli conoscere anche a voi. Abbiamo recensito già il cellulare Mi 9T, abbiamo già visto il robottino per pulire la casa e abbiamo visto le cuffie Bluetooth. Ora vi voglio portare un altro gadget interessante, l'Amazfit GTS. Vediamo insieme alcune caratteristiche. Il design mi ha colpito particolarmente perché è ben costruito, bello solido, con un frame laterale in metallo e una scocca posteriore in plastica che quindi ne garantisce la leggerezza. Infatti pesa all'incirca 23-24 grammi, un peso più ma roba che una volta che te lo infili al polso ti dimentichi davvero di averlo. Lo schermo è davvero ampio, generoso, anche se non rimane troppo ingombrante anche su un polso molto piccolo. In effetti io non ho un polso eccessivamente grande ma ritengo che sia davvero comodo e pratico da indossare. Questo orologio si posiziona più o meno a una via di mezzo tra uno sport watch e uno smart watch, non eccellendo in niente ma facendo in maniera egregia entrambe le funzioni con qualche limite che adesso vedremo. E vabbè continuiamo così. Vi chiedo scusa fin da subito per i rumori molesti che sentirete in questo video ma sono i muratori che stanno forse buttando giù l'intera palazzina ormai da settimane e non ci possiamo fare niente per fermarli. Molto interessante il display da 1,65 pollici con uno schermo AMOLED quindi con neri molto profondi, un contrasto davvero ben deciso e una luminosità molto alta tanto che anche mettendolo in automatico all'esterno vedrete in ogni condizione di luminosità i dati che trovate sull'orologio senza nessun problema. Inoltre è interessante notare la densità di questo display di 341 ppi anche superiori a quello che è l'Apple Watch di quinta generazione. Per quanto queste caratteristiche siano belle, fenomenali, interessantissime, sotto l'aspetto hardware ovviamente questo dispositivo deve ovviamente essere castrato in qualche modo per poter ottimizzare anche la durata della batteria che è soltanto di 200 mAh. L'autonomia dichiarata arriva fino a 14-15 giorni consecutivi. Io effettivamente nell'utilizzo quotidiano sono riuscito ad arrivare fino a una decina di giorni, non di più, ma forse dipende anche dall'utilizzo intensivo delle notifiche o comunque delle attività sportive che si svolgono nel frattempo. Per quanto riguarda però il riconoscimento del battito e delle frequenze cardiache, delle attività sportive che si fanno, è davvero molto affidabile. Il battito cardiaco è in linea con quello che effettivamente viene registrato anche da altri dispositivi. Forse l'unica pecca che possiamo trovare è che durante un'attività sportiva intensa dove magari c'è bisogno di alte variazioni di battito cardiaco, pensiamo forse un esercizio cardio o un esercizio di questo tipo, beh sotto questo aspetto l'Amazfit GTS non riesce a prendere i dati in maniera così istantanea da catturare ogni singolo sbalzo di battito cardiaco, però nella costanza giornaliera e nella media generale non c'è assolutamente nessun problema. Per quanto riguarda la fluidità generale del dispositivo sicuramente non possiamo gridare al miracolo, ha una buona reattività, forse ogni tanto ha qualche piccolo impuntamento, ma nella quotidianità, nell'utilizzo di tutti i giorni non è qualcosa sicuramente che compromette l'esperienza d'utilizzo, quindi anche sotto questo aspetto direi che è un buon compromesso per rimanere sempre vicini al rapporto qualità prezzo di questo dispositivo. Ricordo che questo dispositivo sul sito di Amazfit viene venduto a 129 euro, in qualche store online ma anche all'unieuro ultimamente si può acquistare a 113 euro se non anche meno di 100 euro sottra qualche store di terze parti ed è un prezzo decisamente conveniente per le funzioni effettivamente che svolge questo dispositivo. Interessante è anche la certificazione che garantisce una impermeabilità fino a 5 atmosfere, quindi non c'è nessun problema ad utilizzarlo in acqua, anzi le stesse attività sportive prevedono il nuoto e il riconoscimento automatico dello stile di nuoto che si sta svolgendo. Ottima funzione, molto carina e specialmente in questo periodo estivo è molto utile da portare anche al mare. Il cinturino è in plastica, leggermente elasticizzato, interessante, carino, anche esteticamente piacevole, poi ovviamente dipende dai gusti personali che uno ha e interessante che oltre ad essere un cinturino classico da 20 millimetri è facilmente sostituibile attraverso le levette che ci sono sul retro, quindi volendo si può sostituire con qualunque altro cinturino da 20 millimetri. Ovviamente possiede tutti i sensori indispensabili per un orologio di questo tipo, quindi bluetooth 5.0, gps, barometro, giroscopio, tutti quei sensori che ci aiuteranno a misurare le attività giornaliere che svolgiamo ed è molto interessante perché anche a livello di misurazione del sonno è molto accurata. Il resoconto che anche l'applicazione da, l'applicazione Amazfit, di quello che viene fatto durante la giornata misura in automatico quando andiamo a dormire, quando dormiamo, la profondità del nostro sonno in base ai movimenti e i battiti cardiaci che rileva praticamente nelle 24 ore, quindi è molto interessante. Molto buona anche la luminosità automatica del dispositivo, non ho mai avuto problemi per visualizzare lo schermo ed è molto interessante anche il fatto che c'è la possibilità di mettere una sorta di modalità silenziosa e intelligente. Questo cosa vuol dire? Che se è attivata ogni qualvolta l'orologio rileverà che stiamo dormendo, riposando o comunque siamo in un'attività che non necessita di sentire le notifiche al polso, allora disattiverà la vibrazione almeno nelle ore notturne, possiamo anche decidere noi oltretutto la fascia di orario per poter disattivare le notifiche. Un'altra cosa interessante che ho utilizzato molto è impostare l'orario nella quale l'orologio permette di essere risvegliato con il movimento del polso. Mettendo ad esempio un orario soltanto diurno ci permette di notte, ogni qualvolta facciamo un movimento, di non attivare lo schermo e quindi non avere spreco di batteria inutilmente. In alternativa comunque l'orologio ha la possibilità di avere un ambiente display, quindi un orario che rimane sempre fisso sull'orologio anche quando non ce l'abbiamo inclinato direttamente davanti alla nostra faccia. Consuma più batteria, quindi le giornate di autonomia caleranno drasticamente, ma a mio avviso è una funzione che non è così tanto interessante ed utile, anche perché ogni qualvolta dobbiamo vederlo ovviamente gireremo il polso verso di noi e ovviamente si attiverà lo schermo. La funzione del movimento col polso è davvero reattiva al massimo, quindi ogni movimento viene sempre percepito, lo schermo si accende sempre tempestivamente, perciò secondo me è un po' superflua come opzione, ma per chi piacesse avere sempre sul display appunto l'orario ben lo stampato non ha problemi perché può attivare questa opzione ad avercelo. Sotto l'aspetto personalizzazione non c'è tantissimo da poter fare, effettivamente di serie l'orologio esce con due watch face che sono preimpostate, secondo me comunque già ben fatte e ben costruite, che però possono essere modificate, sendo interattive. Un aspetto leggermente negativo che ho notato è che una volta che si ricevono le notifiche, queste dopo poco scompaiono dalla schermata principale dell'orologio e per richiamarle è necessario andare proprio nella sezione notifiche per poterle rileggere. Questa opzione comunque può essere facilmente aggirata impostando nel tasto fisico che abbiamo laterale una pressione prolungata che richiami in automatico le ultime notifiche ricevute. In questo modo mi sono trovato decisamente meglio perché così in ogni momento posso rivedere quelle che sono le ultime notifiche che forse mi sono perso perché in quel momento non potete avere sotto controllo l'orologio o comunque leggere la notifica a livello completo. Per quanto riguarda la ricezione delle notifiche è molto buona, molto reattiva, con qualche limitazione. Non avendo ovviamente una cassa non è possibile ascoltare le note audio, non è possibile vedere e visualizzare sul display per quanto ampio le fotografie che ci vengono mandate e di serie non è possibile neanche visualizzare le emoticon che abbiamo ricevuto attraverso applicazioni di terze parti. Beh quindi tutto sommato devo dire che sono rimasto favorevolmente colpito da questo dispositivo. Mi piacciono i neri così profondi, mi piace la luminosità, mi piace la reattività delle notifiche per quanto non si possa rispondere alle notifiche direttamente perché non prevede una risposta anche soltanto automatica dei messaggi e questo forse è l'aspetto che lo rende poco smartwatch. Però tutto sommato per le necessità personali che avevo, quindi soltanto di poter vedere in tempo reale le notifiche, vedere ovviamente l'orologio, l'orario essendo un orologio e monitorare le attività giornaliere, beh sotto questo aspetto devo dire che si comporta decisamente bene. Per quelli che forse sono leggermente più propense ad avere uno smartwatch completo che possa rispondere alle notifiche, che possa interagire in maniera più attiva con il dispositivo, beh forse questo non è esattamente il dispositivo più adatto. Per chi invece ha una tendenza prevalente all'attività sportiva o comunque che gli interessa poter visualizzare tutti quelli che sono i dati giornalieri delle proprie attività, beh questo dispositivo lo fa in maniera davvero egregia, davvero eccellente perciò è decisamente consigliato. Cos'altro vi posso dire? Io nel frattempo sto sudando come un mandrillo. Ok. No alla fine stamattina non sono andata perché non mi ha chiamato chiamata. Scusate questa è l'interazione e quindi il banco ce la facciamo a spegnere. Stanno andando da solo. O comunque la faranno, possono farla anche un'altra mattina. Cliccando il bottone succede anche questo. Ecco questo è il bello della diretta. Ecco non so cosa sia successo. Mi è arrivata una notifica e per la prima volta ho scoperto in diretta insieme a voi che è possibile cliccando il tasto laterale far partire una notifica audio direttamente dal cellulare. Va benissimo. Una funzione in più che non sapevamo. Ottimo. Ok. A prescindere da questo excursus il dispositivo si collega direttamente a un'applicazione nativa che si chiama Amazfit e ci dà la possibilità di vedere tutte quelle che sono le registrazioni del... Ha deciso di stopparsi. Ok. Scusate ma qua sta impazzendo tutto. Anche il monitor della fotocamera è esploso. Quindi... non so. Oggi questo video non sa da fare. Comunque in conclusione volevo soltanto dirvi che mi sono trovato particolarmente bene. Come già abbiamo accennato. Che è un dispositivo che per quanto riguarda la qualità prezzo è molto buona. Più adatto agli sportivi che a quelli che decidono di avere delle notifiche interattive direttamente sul proprio orologio. Ok. Penso che più o meno abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Spero che il video vi sia stato utile. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale per non perdere altri video. A mettere un mi piace. E noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Ok. 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 Ok.